Ogni individuo ha il diritto di evitare quanta più sofferenza possibile e il dolore non necessario in ogni fase della sua malattia. La legge numero 38 del 2010, al fine di tutelare la dignità della persona umana e la qualità della vita, riconosce il diritto alle cure palliative e al controllo del dolore. Tutti i malati hanno dei diritti, ottenerne il rispetto è un dovere, non un beneficio. Cittadinanza Attiva, Active Citizenship Network ha realizzato la Carta Europea dei diritti del malato.